abbiamo visto fare subito una ricognizione del campo può essere già questo un avversario in più visto che in italia non siamo abituati a giocare sul sintetico anche se il palermo negli ultimi giorni aveva provato ha provato ad allenarsi sul sintetico proprio per abituarsi a questo tipo di campo beh è chiaramente nettamente diverso a quello dove siamo abituati sia a lavorare a bocca di falco sia a giocare allo stadio chiaramente una difficoltà in più però non deve essere assolutamente un animi ci siamo preparati abbiamo appunto sfruttato anche due giorni su un campo sintetico non non proprio identico ma simile e quindi dobbiamo essere e saremo senz'altro pronti è un vantaggio giocare con l'idea di dover vincere per forza e passare il turno è comunque una spada di Damocle che spesso può essere anche pericolosa noi sappiamo che per vincere dobbiamo per passare il turno dobbiamo vincere e quindi entrare in campo con questa convinzione con questa motivazione ci darà senz'altro è un approccio migliore una una preparazione della partita più più convinta e sappiamo che possiamo far bene che l'avversario è tosto ma che anche noi saremo in grado di lottare pallone su pallone perché è chiaro che vogliamo assolutamente provare a passare questo turno quanto è fiducioso in considerazione anche delle buone cose viste nella partita d'andata quando soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tanto dopo il pareggio di Ilicic la fiducia c'è c'è assolutamente ripeto grande convinzione perché abbiamo analizzato le quelli sviluppi della partita precedente sia quelli positivi sia anche chiaramente quelli negativi dove contiamo di crescere e di farlo velocemente ripeto affrontiamo un avversario che in sei gare ufficiali non ha mai perso quindi assolutamente non ci aspetta una gara facile ma crediamo e siamo convinti di avere i mezzi per per superare questo difficile ostacolo grazie a tutti